Sono salvi oltre 100 lavoratori di Alba, la municipalizzata a cui è affidata l'igiene urbana di Batipaia. Siglata l'intesa con il Comune che garantisce posti di lavoro e stipendi per i prossimi 5 anni per un costo complessivo di 42 milioni di euro. Il primo luglio entrerà in vigore il nuovo contratto che prevede anche un aumento della differenziata che dal 65% attuale dovrà passare almeno al 70% nell'arco di un anno. Prima di pagare le mensilità i dirigenti e tecnici comunali dovranno controllare il lavoro svolto.